Mike? Mamma, stiamo alla metà di una campagna. Sera terminando, già passarono 15 minuti. Ai Dios mio! Altri 20 minuti! L'umani c'è in scuola, Michael. Ho appena messo oli a dormire e finisci il prossimo weekend. Ma così si rovina il ritmo, Michael. Sono serio, mamma. Due settimane per progettare la campagna. Come sapevo che sarebbe durata 10 ore. State giocando da 10 ore. Sei insolentero! Sti, 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 sti... E che cosa dicevi? Sti, sti... Ma che cosa dicevi? E che cosa dicevi? Di dove ho ascoltato. Che cosa? Musica. E questa musica, in fine. Cosa ti senti? Sannolata su scuola, sti. Non lo spesso! Ciao sti! Questa è la mia... Non è la mia direzione, hai lo sai bene! C'è l'elettricità, mamma. È l'elettricità, mamma. È l'elettricità del telefono. Non, non è l'elettricità, Jonathan. C'è qualcosa qui sta succedendo là. Grazie a tutti.